Caro Anonimo dell'antica Roma, per la precisione di età imperiale tra I e III secolo d.C., scusa per il baccano che si è creato intorno alle tue ossa, impossibilitate a riposare in pace. Quando lo scorso 30 ottobre vennero ritrovate, scavando sotto un pavimento durante dei normalissimi lavori di manutenzione, i riflettori si accesero e le telecamere accorsero. Perché, caro il mio Anonimo, è rifinito sepolto in quella che oggi è l'Annunziatura della Santa Sede in Italia. E qui, appena accade qualcosa di inatteso che abbia a che fare con il Vaticano, si scatena un riflesso di morbosità e complottismo. E intorno ai tuoi poveri resti è partita in men che non si dica una ridda di voci incontrollate. Sono ossa femminili e non sono di una sola persona, ma almeno due. Così facendo, sono state alimentate false speranze in seno a due famiglie, gli Orlandi e i Gregori, che nella Roma, non più imperiale ma altrettanto fosca, del 1983, videro sparire due giovanissime, Manuela e Mirella, nel giro di poche settimane l'una dall'altra. Due ragazze il cui destino è avvolto in una nebbia crudele, per chi vorrebbe avere risposte, per un ricongiungimento insperato o anche solo per avere delle ossa da piangere. Di ossa sono rimaste le tue, caro Anonimo, vecchie di quasi duemila anni, come adesso assicurano gli esperti del laboratorio Circe di Caserta, a cui gli inquirenti si sono affidati. Gli esami al carbonio 14 non lasciano dubbi sulla datazione, come ci hanno confermato dalla direzione del laboratorio. Torna ora al tuo oblio, caro Anonimo. Speriamo di non dover più turbarti il sonno eterno.